All'interno di G-Style ospitiamo molto spesso gruppi musicali, nuovi artisti, ma abbiamo anche un gruppo interessante della nostra scena abruzzese, ovvero i fanastici. Ci parlano di questa loro invasione mediatica su internet, ho visto davvero di tutto, sui giornali hanno parlato di questo loro brano e oggi ci raccontano un po' come è nata la canzone Anche Taglie Comode. Potrebbe essere anche un tormentone estivo, eh? Speriamo. Allora, raccontaci un po'. Anche Taglie Comode nasce da un'idea di Giovanni De Berardinis, che è un mio collega, un medico come me, che lavora però fuori Pescara e ogni tanto ci vediamo per fare qualche stupidaggine musicale. Lui ha suonato con noi, non con i fanastici, ma con un'altra formazione che suoni Papa Glescia, ha suonato come bassista e quindi anche lui ha la passione per la musica. Di tanto in tanto ci vediamo a casa mia e mi porta questi pezzi che scrive, questi brani che scrive e tra i vari brani che ha portato abbiamo individuato questo singolo che appunto si chiama Anche Taglie Comode ed è una canzone tipicamente estiva anche perché è un giro di due. Ed è classico delle canzoni estive. E qui c'è stata poi una sua interpretazione che ha dovuto anche un po' adattarsi a queste... Purtroppo ha sofferto tanto. Ecco, purtroppo ha sofferto tanto spieghiamo anche il perché, giusto? Eh sì, perché mi hanno fatto cantare questa canzone in tonalità molto, molto basse e quindi mi sono dovuto adattare a questo meraviglioso pezzo che spero che voi tutti abbiate già sentito. Grazie a Luigi che mi ha coinvolto in questa bellissima esperienza che è stata la mia prima esperienza in studio ed è stata un'esperienza meravigliosa. Beh, anche perché si comincia, come dire, a parlare molto del vostro brano vuol dire che colpisce l'attenzione. Sì, è un brano che ha fatto 5.000 visualizzazioni in meno di una settimana, però il merito non è solo nostro. Ecco, ricordiamo. Devo dare il merito soprattutto al produttore Stefano Severini e tutto lo staff che ha collaborato con noi. Ricordiamo anche chi ci ha gelato il video, che è Christopher Verrocchio. Un video che abbiamo realizzato in una sola giornata per i miei di tempo, perché eravamo già in ritardo l'estate, quindi dovevamo fare una cosa abbastanza veloce. Però un video che devo dire è piaciuto molto professionale, è piaciuto paremmo. Vogliamo anche ricordare gli altri elementi del gruppo, della vostra situazione. Fabio è la voce, io mi occupo delle tastiere, poi c'è Gianmarco De Bonis che è il titanista, Pietro Vari al basso e Marco Contento alla batteria. In più ci siamo avvarsi della collaborazione di altre persone. Per questo pezzo. Per questo pezzo sono Andrea Onofri al sax. Gianluca Viola alla tromba. Poi abbiamo avuto la collaborazione con Sara Antonelli, detta L'Escano, che ha fruttito la sua voce per i cori. In più abbiamo avuto la collaborazione di Lucio D'Alessandro, che ha fatto sia, come ripeto, un messaggio, ma soprattutto ha suonato l'Hermond. Quindi è uno strumento diciamo un po' antico, ma che va anche molto di moda. Sì, anche perché è un brano che ha il sapore degli anni 40, grazie ai cori di Sara, per cui abbiamo scelto anche di inserire all'interno un strumento particolare che è appunto l'Hermond. Un brano che comunque chiama tantissimo quello che sono anche i sapori estivi e la voglia di divertirsi durante l'estate. Oggi si augura di fare un gran lancio di questo brano, ancora di più nel nostro piccolo cerchiamo di diffondervi dal web ancora di più, ma anche e soprattutto attraverso i canali televisivi. Restiamo anche in ascolto del vostro brano che sappiamo che gira ormai anche nelle radio americane. Ormai è in playlist da circa una settimana nelle radio americane, chi volesse può acquistarlo tranquillamente su tutte le piattaforme digitali, da iTunes a CD Baby a Amazon. Un misero prezzo, pochissimo, 99 centesimi. E questo è giusto per ricordarlo, ma avremo modo che sono di rincontrarvi anche con la formazione completa, magari vi invitiamo proprio qui in studio. Magari nell'uscita dell'album. Eh sì, lanciamo il prodotto attraverso anche la TV. Noi ringraziamo i fanastici e ringraziamo voi che ci avete seguito. Grazie.